Ciao creatura, io sono Eka Desplendente, benvenuta o bentornata nel regno di Cosa è ASMR. Ah, oggi altri nuovi capitoli, abbiamo capitolo 11, capitolo 12, capitolo 11, lasciare un'impressione, un ospite di mezzanotte inaspettato e un compito sorpresa, quale puoi gestire meglio? Andiamo, capitolo 11, verso mezzanotte qualcuno bussa la tua porta, ti alzi dal letto con la vista nebbiata, perché Alice è qui adesso? Aprendo la porta, sei inorredita, vedendo che non è Alice, buona sepa, oh, salve, spero ti non avevo disvegliata, no, certo che no, ti avevo sempre un po' scappigliata, ok, ero addormentata, Scusa, sapò rapido, così puoi tornare a fare la bella addormentata, molto divertente, sono qui per invitarti ad un tea party, con piccole tasse di tè e cupcake, esatto, no, certo, certo, a me va bene, Sono felice che la pensi così, specialmente perché è obbligatorio, ah, va bene, beh, allora è un bene che mi piace il tea e il dolce, lo è davvero? Quindi l'hai organizzato tu? No, mia madre mi ha chiesto di invitare due ospiti, quindi io e Ethan, magari due ospiti donne? Oh, no, mi ha dato il permesso di scegliere le mie due candidati per bevete, e io sono nella top 2, diciamo che sei al primo posto, davvero? Ciao, ciao tu, hai catturato la mia attenzione, Lady Antonia, sono onorata che tu abbia scelto me, non essere il tuo entusiasta, sova molto simile ad un intervogatorio, Mi ci sto abituando, un'altra cosa La regina vorrebbe che tu le te dimostrassi la una tua abilità, abilità, che tipo di abilità, qualsiasi cosa tu sappia fare, Ti beva chiesto di esibirti dopo il dibattito, e non posso fare nulla per tirarmene fuori, ho paura di no, Hai qualche abilità in mente, arte della situazione, lo capirò, lo capirò, penserò a qualcosa, sono sicura che sei molto talentuosa, Lady Antonia, immagino lo scoprirai domani, va bene? Devo andare, non vedo l'uva di vedere domani, aspetta Sì, Lady, devo sapere perché io, in tutta onestà, se fossi io a sceglia, beh, si sa, è mo solo io e te a quella festa, il principe prende la tua mano e la bacia dolcemente prima di andarsene, Oh, ho la pelle d'occa Grincia Tornata nella tua stanza, cammini lento sul pavimento, scomposolata dall'incontro di mezzanotte Come ha fatto a mandarmi in questo stato di frenesia? È la droga, decidi di mandare un messaggio ad Alicia e chiederle consigli Alicia, ho bisogno della tua esperienza Immaginavo, che succede? Sono stata invitata per un tè con il principe e la regina Iai, vittoria Vittoria Ma devo esibirmi per la regina? Oh, wow, fammi venire a vederti Che cosa farai? Non ne ho idea Pensa ad un'abilità che potresti mostrare Non riesco a pensare a niente Cantare? Ma mi verrebbe il panico da palcoscenico Almeno sento nota Che altre opzioni ho? Cioè fare delle buone imitazioni Credi che la regina sarebbe impressionata da certe cose? Non ne ho idea Potrebbe valerne la pena Credo che siano le uniche due opzioni che ho Aspetta E se ti insegnassi la danza irlandese ora? In questo momento Credi che possa impararla in tempo? Ti ho vista ballare Sei brava Penso te la posso cavare In cosa ti esibirai per la regina? Cantando Imitazione Danza irlandese Io voglio danza irlandese Costa 20 La compriamo Danza irlandese Funziona? Sì Sarà fantastico In con Incontrami Nella sala da ballo Fra cinque minuti Ok Arrivo Arrivi alla sala da ballo Pronta per una danza irlandese Alicia arriva poco dopo Scusa Sono in ritardo Pronta a ballare Pronta come non lo sarò mai Presumo Riuscirò a imparare questa cosa in una sola notte Neanche lontanamente Ma posso mostrarti alcune basi Lo stile della danza viene chiamato Jig Non lo so Devi fare una sorta di saltello Alicia te lo mostra Muovendo il suo peso Sul piede sinistro E alzando il piede destro Dietro di lei Vedi Sembra molto complicato E diventa anche peggio Fa schioccare il piede sinistro Davanti al ginocchio Rimbalzando in un movimento complesso Non ne sarò mai capace Certo Che ce la farai Creeremo una coreografia basilare E questa mossa sarà il centro di tutto Ok Sono pronta per perfezionare questa mossa Va bene Prova tu stessa Come fai? Salta a sinistra o salta a destra? Non so Salta a sinistra Salta alla sinistra Assala la gamba a destra In basso Calcia la gamba a sinistra Bene Ci sei riuscita? Per culo Per culo Pura fortuna Davvero? Non mi aspettavo che imparassi così in fretta Speriamo non fosse un caso di fortuna del principiante Ed era proprio per quello Beh Non fa male provare un paio di volte Guarda di nuovo Spendi dieci minuti perfezionando la mossa Sì Sei andata benissimo Stai praticamente danzando come un libricano Forse sono irlandese nel cuore Tutto ciò che dobbiamo fare ora è finire la coreografia Quanto credi che dovrebbe durare? Almeno un minuto? Cavolo Se lo dici tu? Sì perché ho fiducia in me stessa Dovresti averne anche tu Ok Ok Ho capito Forse dovrei essere una motivatrice Solo dopo aver completato la tua carriera da coreografa O isfacciata Redete insieme ad Alicia Ti aiuta a completare il resto della coreografia Redete insieme ad Alicia Vabbè ho sbagliato a leggere Va bene Fammi vedere cosa sai fare È passo giro Passo applauso G Irlandese Ce l'hai? Ok fammi vedere Pronti? Passo applauso Passo Passo giro Passo giro Passo applauso G Irlandese Sì sei stata perfetta Ricordata Seriamente Potresti passare per una ballerina Una ballerina molto basilare Sì Ma comunque una ballerina Beh Penso sia il momento di chiudere la serata Sono pronta Assolutamente La proverò un altro paio di volte di mattina Buona idea Grazie per l'aiuto Sarò l'asso di questo tiparti domani Capitolo 12 Te Alle rose per i reali Il tuo tiparti Sembra avere un ospite inaspettato Ma la regina sembra adorare Rosetta Come ti comporti senza nessuna Dalla tua parte? Vedremo Capitolo 12 Il giorno dopo Arrivi alla sala da te in anticipo E Rosetta è già arrivata Dovevo immaginarlo che sarei rimasta bloccata Ah scusa Rosetta Dovevo immaginarlo che sarei rimasta bloccata con te un'altra volta Dovevo immaginarmelo che sarei rimasta bloccata con te un'altra volta Sappiamo entrambi che ha chiesto di te perché doveva per forza trovare due candidate Non importa, sono qui per stare Mi stai dicendo che non ti cambierai? Non erano i piani Sembri un casino Grazie, mi sto abituando ad essere riempita di complimenti Seriamente, non puoi presentarti vestita di stracci e aspettarti di piacere alla regina Cosa te ne importa? Ti prego, è imbarazzante stare in tua compagnia quando sei così Va bene, vedrò cosa posso mettermi E vai, ci si cambia ancora outfit Cosa indosserai per il di party? Ma la stanza non era tipo sui toni del giallo Adesso sui toni del blu Vabbè, io forse mi ricordo male Il solito vestito poraggio Questo vestito con questi orecchini sopra ed eleganti Oppure questo qui Ma scusami, cambiamo colore dei capelli in ogni outfit Molto bene Io direi quello dorato Cioè, voglio sfigurare quella rosetta, mi sto troppo antipatica Mi sembra giusto, visto che ci ha fatto cambiare Ci andiamo giù pesante con un super abito dorato E questo stile è fantastico Così impara Giochiamo pesante Ok, forse non avrei dovuto dirti di cambiarti Perché? Beh, non voglio che tu sia più bella di me Troppo tardi Credo fosse un complimento sotto copertura Vabbè, non possiamo tornare indietro Immagino di te passere ora Ti siedi al lato opposto, Rosetta Lasciando un posto per i reali ai tuoi lati Scommetto che la mia esibizione sarà migliore della tua Beh, non si sa mai Potrei avere qualche asso nella manica Sì, ci crederò quando lo vedrò La porta si apre e arriva il principe con la regina al seguito Buon pomeriggio, Lady Buon pomeriggio, vostra altezza Credo che per una volta il giudizio di mio figlio sia stato perfetto Ho due belle ragazze sedute al mio tavolo La regina e il principe, Jonathan Si siedono ai loro posti Ti manda un veloce sorriso mentre riavvicina la sedia Dunque, vorrei sfruttare quest'occasione per conoscervi meglio Sì, vostra altezza Assolutamente Allora, dimmi Antonio Ti piace il tè alle rose? Non ho mai bevuto tè alle rose Ma vuoi fare colpo con la regina? Vuoi fare colpo? La regina Ma cosa fai? Dì la verità, stai al gioco Immagino che sia buono, quindi stai al gioco Lo bevo sempre Davvero? Davvero? Quindi conosci il segreto per un buon tè alle rose? La rosa? Neanche lontanamente È un rametto di menta Sicura che ti piace il tè alle rose? No, figurati in me Non è bello per... Non è bello per lei di mentire Rosetta succhigna mentre passi la testa Scarlatta in viso, no? Comunque dobbiamo assaggiare... Ma io ero ironica Se non capite l'ironia Che lo bevo sempre Era una battuta È colpa vostra Comunque dobbiamo assaggiare alcune tè oggi Andrò stupendamente insieme alla selezione di dolci Un cameriere portava soia di torte e tazze di tè Ti avevo detto che le avrei potute Povotava io Non essere ridicolo Sei il futuro re Sarai servito come tale Pensavo solo che... Beh, non farlo A cosa credi che servano i domestici? C'è un silenzio imbarazzante Mentre il tè viene gettato E le torte saranno gettato Contro milanti Le torte saranno... Sforza Non essere timida Dacci dentro Allora Dacci dentro Offriglielo Offriglielo a cosa? A chi? Non si capisce? Tanto la figura di M l'abbiamo già fatta Quindi diamoci dentro Grazie Vostra altezza Mi vorresti far credere Che non mi lascerei la prima scelta Ma sbagliavo sempre Ma prima non bisognava assaggiare Non ho detto che volevo Che assaggiasimo su Cibo Adesso non va più bene Ma È solo che ha detto So cosa ho detto Ho semplicemente pensato Che avresti avuto un po' di educazione Tutto qui Rosetta ritacchi E ti mordi il labbro nell'imbarazzo Aspetti che tutti scelgono il dolce Volendo sembrare ducata Non hai fame? Antonia C'è così tanta scelta Suggerisco la fetta al pistacchio Cosa ne pensi? Ha un'ottima idea I tuoi occhi fissano un brownie Fra sfisa di dolci E lei da solo lasci che il principe scelga per te Ma io ho pistacchio Sì va bene Per me amici Lascio fare al principe Accetto un suggerimento Credo che ti piaceva Dai un morso alla fetta al pistacchio Non è per niente Sì ti tocca al dimento Ma come? Ti piace? Il principe ti guarda speranzoso E non potresti sopportare di perdere i suoi sentimenti È deliziosa? Che tutto Che finzione? Mamma mia Non mi ci trovo per niente in sto mondo Che il suo sorriso vale ogni morso Di quel Di quel dolce disgustoso Basta parlare del dolce Voglio sapere di più su voi ragazzi Ho uno scenario per te Se adesso ti dessi un pezzo di argento Come lo useresti? Lo userei per comprare una nuova spada Dall'armeria Capisco E tu La di Antonia Finanzia una cucina Aiuta mia madre Cosa vuol dire finanzia una cucina? Aiuta mia madre Ah vorrei dire aiuta mia madre Ma sicuramente è la risposta sbagliata Ma tanto in questo episodio abbiamo sbagliato tutto Quindi aiuta mia madre Ma dopo parliamo di mia madre Beh fan brodo Aiuta mia madre Li userei per aiutare mia madre malata Ah davvero? Sì è molto malata Beh Per quanto sia affascinante Tua madre non è al centro degli interessi del regno È al centro dei miei Non puoi lasciare che il tuo cuore comandi il tuo cervello Quando diventi regina Faresti bene a riconoscerlo Prima che possa essere detto qualcos'altro La regina apposa la sua forchetta Bene È giunta l'ora che voi ragazzi Mi mostriate qualcos'altro sapete fare Siete pronte? Abbiamo toppato talmente questi episodi Come non mai Allora spostiamoci nella sala da ballo Entri nella sala da ballo Dopo che Rosetta ha concluso la sua esibizione La regina ti sta aspettando sul suo trono Il principe assolato Bene Ora vorrei vedere cosa è in servo per me Nello scorso capitolo hai scelto di esibirti in una danza irlandese Hai detto danza irlandese? Sì Vostra altezza Oh stupendo La mia famiglia ha radici irlandese No avevo dubbi Ha radici irlandesi Non vedo l'ora di vedere la tua esibizione Parli in silenzio Come fa a parlare in silenzio? Parli in silenzio con Alicia Per farti guidare Pregando che l'esibizione vada bene Bene Cominciamo Provi a ricordare tutti i passi che ti ha insegnato Iniziando la semplice coreografia Brava Continui con la sezione irlandese della danza La regina ti incoraggia mentre inizi con il jig Meraviglioso Semplicemente meraviglioso Una volta finiti ti inchini velocemente Mentre vieni applaudita Ben fatto Mia cara Un'esebizione eccellente Semplicemente formidabile Grazie Sono felice che vi sia piaciuta Ora che hai finito Puoi andare Grazie per essere venuta Ti inchini E ti affretti verso l'uscita Felice che l'esame finale del giorno si sia concluso Si sia concluso Già ecco io male E' un casino qua Direi che mi ha amministrato male ma finito bene Rosetta ti aspetta fuori dalla sala da ballo in attesa La regina è rimasta impressionata da me Era giusto per fartelo sapere Il principe emerge dalla sala da ballo interrompendo la tua conversazione Ben fatto Lady Una giornata produttiva di lei Lady Antonia Devo ammetterlo Ammetterlo Ti ho trovato Meravigliosamente affascinante E cosa ne pensi di me Jonathan Sì anche tu Lady Rosetta Notando la sua indifferenza Rosetta si agiglia Poi tu hai avuto un momento in cui vi vado con Lady Antonia Ok Vieni a trovarmi più tardi Se dovessi annoiarti Mentre Rosetta si è lontana Il principe Jonathan scuote la testa In dissenso Mentre tu cerchi di trattenere le risate Stavo desiderando tutto il giorno Ti stavi da solo con te Sono felice di non essermi reso ridicolo davanti a te Non credo tu ne sia capace Sei troppo gentile Non dovessi avere qui il tuo appo a lungo Non vorrei causare uno scandalo Ma non vedo dove ti spendere più tempo in tuo compagnia Le di Antonia Il principe ti bacia la mano Il principe ti bacia la mano E vai via con un sorriso Sorridi anche tu Che giornata E' meglio che riposi Per l'evento di beneficenza di domani Ti dirigi verso la tua stanza Con un sorriso in viso Pronta per un'altra sfida Nel giorno dopo Anche questa sera Il capitolo finisce qua I tuoi capitoli finiscono qua Io ti auguro buonanotte Buona serata Ciao creatura Io ti auguro buonanotte